Buongiorno, oggi parliamo del cane. Quali sono le sue origini? I primi cani, i migliori amici dell'uomo, derivano tutti da dieci razze che si sono differenziati a partire da circa diecimila anni fa, quindi parliamo di un periodo molto molto lontano da noi. Possono essere piccoli, possono essere grandi, mordaci, possono essere da salotto, le orecchie possono essere pendule, gli occhi dolci, la guardia eccetera. I cani sono tutti diversi in base alle taglie, al colore, in base al loro comportamento e ad oggi ne esistono addirittura 300 razze. Ma se si fa un passo all'indietro, quindi nel passato, circa diecimila anni fa, i migliori amici dell'uomo erano solamente una decina di tipi e quando emerge da uno studio che è stato condotto da un gruppo di ricercatori americani, i quali hanno indagato sulla storia del canis familiaris. Per la prima volta abbiamo identificato quindi le varietà progenitrici dei cani attuali, ha detto la ricercatrice Deborah Link, e sono dieci. I primi cani che vissero con le popolazioni umane del paleolitico derivano dall'addomesticamento di rupi grigi ed avvenne in Asia circa 15.000 anni fa. Poi gli uomini iniziarono a incrociarli tra loro per avere tipi sempre più adatti alla caccia, alla punta, al riporto e ad altri bisogni. In 3-4 mila anni quindi si vennero a differenziare le dieci razze progenitrici. Nei secoli seguendo questo gruppetto di cani è stato poi ulteriormente selezionato per dare origine alle razze che conosciamo oggi. Se la cosa risulta interessante per voi continuate a seguirmi su questo canale.